E' terminata la stagione regolare, tempo di bilanci, c'è un'ottima partecipazione alla Coppa Italia e poi il quarto posto che era l'obiettivo, direi, missione compiuta. Sì, missione compiuta, considerando che abbiamo avuto un cambio della guardia l'anno scorso perché la squadra dell'anno scorso è stata praticamente smantellata, un budget che secondo me abbiamo speso nel modo giusto, missione compiuta, siamo arrivati tra le prime quattro, è vero che abbiamo avuto una flessione ma è vero che alla fine abbiamo le stesse vittorie di squadre che hanno speso tantissimo e che hanno come unico obiettivo quello di andare in Serie A e siamo solo due punti dalla testa. Considerando che abbiamo anche perso un paio di partite all'ultimo tiro, qualche rammarico c'è ma noi dobbiamo guardare avanti, ora tocca i play-off. Samminiato è una squadra aggressiva, una squadra scorbutica e poi da che mondo è mondo il quarto, tra la quarta e la quinta classificata è sempre quello più equilibrato? Sì certo, è una squadra che poi ha già abbastanza esperienza di play-off anche se non è mai arrivata in semifinale e in finale ma è una squadra che è contraddistinta da anni per via del suo coach e per un gioco che fa giocare sempre male gli altri. Sono una squadra dalla grandissima mentalità, difendono fortissimo, cambiano su tutti anche se non hanno grande statura. Siamo una squadra per cui probabilmente il sistema nervoso sarà più importante del piano tattico della partita. Che tipo di squadra è Samminiato e quali caratteristiche ha? Samminiato è una squadra che ha dei super atipici, quello che dovrebbe essere il loro numero 5 che è Nasello, è il giocatore probabilmente più importante della squadra perché essendo lungo atipico porta avanti il pallone a tutto campo, smazza assist, gioca forte uno contro uno, un giocatore che sarà complicato a marcare perché è molto più rapido della media. Poi c'è Limolese o Eximolese Preti che a questo livello si è rivelato un cecchino da 3 punti, un 4 anche lui atipico che tira moltissimo da 3 punti e poi una pattuglia di guardie da Maggini che ormai è esperto di questo campionato, a Mazzucchelli, a Benite, a Salasagna. Insomma una squadra che fa della transizione, della corsa e del tiro a 3 punti e della tipicità dei suoi lunghi, un vero marchio di fabbrica. Quali sono le chiavi per abbattere Samminiato? Cosa chiedi alla tua squadra e soprattutto quale qualità che hai visto durante la stagione vorresti rivedere in questi play-off? Allora quella di non perdersi mai d'animo perché con questa squadra che vive di fiammate non bisognerà mai perdersi d'animo anche quando avranno un loro momento positivo e poi cercheremo di fare un passo in avanti per quello che riguarda la gestione del ritmo, nel senso che noi dovremo poter correre ma non sempre, dovremo controllare il ritmo, dovremo dare la palla sotto ma senza innervosirci dai loro cambi, insomma sarà un vero banco di maturità per il nostro sistema nervoso e per il nostro sistema di gioco. E poi ci sarà il fattore campo che sarà sicuramente la vostra arma in più in questa serie? Sì, questo aiuta anche se è vero che ho qualche giocatore anche esperto che gioca meglio fuori che in casa perché sente probabilmente di più la responsabilità di giocare davanti al proprio pubblico però giocare qui fa sempre bene, speriamo ci sia anche il pieno perché cambia tutto, per cui l'adrenalina deve essere a mille, il campo deve essere caldo, il play-off come dico io è una bella donna, abbiamo... Non dico che abbiamo scherzato fino adesso ma questo campionato, quello che inizia adesso è tutta un'altra cosa. Un messaggio ai tifosi per invitarli sempre di più a tifare per voi in questi play-off? Venite ad aiutarci, il primo turno tra quarta e quinta è sempre un terno all'otto, il fattore campo sarà assolutamente importante ma sarà importante avere un bel tifo a favore e non contro i nostri avversari. Grazie.